Malcontento tra i commercianti della fiera che si svolge a Licata in occasione dei festeggiamenti del patrono Sant'Angelo e che oggi si prepara a chiudere i battenti. Stiamo parlando dei commercianti provenienti da diverse parti della Sicilia, per lo più da Catania, e che hanno avuto assegnato lo stand in occasione della fiera e che oggi lasceranno la nostra città con un po' di amaro in bocca. Sono infatti diversi disagi e disservizi che lamentano gli ambulanti della fiera di maggio. Molti, la maggior parte, pur avendo pagato la tassa dovuta per lo stand, si sono trovati a dover provvedere personalmente al mondaggio dello spazio espositivo. Noi siamo arrivati qua e c'erano tutte queste cose buttate a terra, ma mancavano i tubi, mancavano i bulloni, mancava tutto, non abbiamo trovato niente. Abbiamo cercato anche i teloni per coprirli, perché noi siamo arrivati qua con il camion di notte alle 2-3 di notte e cercavamo queste cose, ma non c'era niente. E siamo andati noi stessi a cercare i tubi, a cercare le cose, perché noi le abbiamo pagate, queste cose noi le abbiamo pagate. Quasi tutti quanti le abbiamo montate noi stessi. Avete provveduto voi al montaggio? Ma perché allora ci potete andare a casa? Dopo che noi abbiamo pagato queste cose ci potete tornare a casa. Invece abbiamo lavorato, però non abbiamo dormito tutta la notte, perché di mattina si montava. E noi abbiamo provveduto a fare queste cose con tubi, ma neanche i bulloni. Se lei vede non abbiamo neanche cose per chiudere, perché se ci sarebbe una giornata di 20 cose, queste se le vota direttamente, perché non sono chiuse per niente. Se lei qua a terra non c'è niente completamente. Altri si sono trovati, pur avendo la presa, senza corrente elettrica e costretti ad alimentarsi attraverso i negozi del centro. L'altro ieri era il buio, c'era una confusione e qua la gente si è andata tutta, perché a luce c'era un servizio e non c'era niente. Ma non è stato mai così, però quest'anno abbiamo trovato una cosa proprio... Come fate per la luce? E ora ci siamo adeguati con lui, ci attacchiamo uno con quello, ora siamo attaccati a questo signore qua che ci dà... Facciamo il favore fra di noi, allora abbiamo noi quella cosa che la facciamo, fa camminare noi altri stessi, la luce. Comunque abbiamo fatto una cosa proprio bruttissima, veramente, sul vero senso della parola. L'anno scorso avete trovato la stessa situazione? No, l'anno scorso è stato tutto regolare, tranquillo, lei è tutto completo, io scaricavo, mettevo la mezza e già ero pronto. Invece quest'anno non c'è stato niente. Sinceramente all'inizio abbiamo avuto un po' di disservizio, nel senso che c'è stata un po' di malorganizzazione riguardo ai gazebi, l'assegnazione dei gazebi, perché c'è stata gente addirittura che è stato tolto il gazebo. Noi dalle 4 abbiamo montato verso le 9 perché non si trovava il posto e poi un po' di malorganizzazione su questo genere, ma del resto è andato bene. Per quanto riguarda l'energia elettrica? L'energia elettrica, abbiamo avuto dei problemi perché non c'è energia elettrica e quindi ci siamo forniti del generatore alimentare. Per chi non ce l'ha è stato un problema, sinceramente, però ci voleva un po' anche di energia. Quali disservizi avete riscontrato? Abbiamo fatto riscontrato la corrente più i gazebi che non sono stati montati al tempo terminato che dovevamo montare. In che modo vi alimentate con la corrente elettrica? C'è aiutato il consigliore, quello della pizzeria, se no non eravamo corrente. Quasi dieci anni che ho montato qua. Negli anni passati così ci organizzavamo meglio, così pagavamo di meno, organizzavamo meglio, ora pagavamo di più e siamo malorganizzati. Avete trovato di servizi? Sì, quest'anno sì. Di che tipo? Di montaggi, degli stenderi, mancano metraggi, ci ha disagiato abbastanza. Per quanto riguarda l'energia elettrica come vi alimentate? Anche, non c'era luce, ci hanno detto che c'era luce, abbiamo pagato molti soldi e non abbiamo avuto soddisfazione di niente. Abbiamo trovato solo le spine ma senza luce. Gli anni passati ha trovato la stessa situazione? No, no. Quest'anno solo. Una situazione, la stessa per tutti gli operatori della fiera. Queste che abbiamo mandato in onda sono solo una piccola parte di tutte le segnalazioni che abbiamo ricevuto di persone che hanno preferito non parlare davanti le telecamere. La speranza dei commercianti, ma anche per l'ICADA, è di fare trovare una situazione migliore e più adeguata per il prossimo anno. Grazie. Grazie.